Sono Juan, ho 29 anni, sono spagnolo, però vivo a Milano ormai da tanti anni. Sto iniziando il mio secondo anno sabatico perché mi sono attuato molto bene il mio primo. Fino a un momento ne ho trovato un impegno lavorativo che mi piaccia o che mi senta di fare di cuore, quindi proseguo facendo delle cose che sento di cuore, che viaggiare e fare solo più. Io amo la moda, è una cosa che sento, cioè tu quando ami una persona perché la ami, non lo sai perché la ami, io amo la moda. Sono un po' assagerato dalle volte come lui, mi piace un bel logo che si veda, se non è firmato non voglio niente. I miei brand preferiti sono Dolce & Gabbana, Gucci, Louis Vuitton, Saint Laurent, Chanel fa pochissimo da uomo, con tanto scarpe e accessori. Mi piace una cosa, dico mi piace, lo prendo, appunto non vai a guardare il cartellino. Sono indomabile, cioè sono una persona, sono ingestibile, anche me stesso mi succede perché mi posso svegliare al mattino e pensare una cosa e poi dopo tre minuti non la voglio più, voglio cambiare idea e basta. Mi annoio facilmente delle cose, molto facilmente, ma troppo veloce. Non riesco a stare più di una settimana in un posto, da tanto tempo che non ci sono più i fidanzati, quindi i miei fidanzati è la moda. La ricanza e ovviamente avere un livello di vita che ti permette di fare delle cose che magari non tutti possono, senza dipendere di nessuno e senza avere nessun tipo di controllo di nessuno. Riccanza 3, Prima TV, martedì 4 dicembre alle 22.50 su MTV